Sì, ma come posso pensare cosa che non conosco? Nel senso che leggo le agenzie in questo caso, manco le notizie approfondite perché è uscito stamattina, la magistratura fa il suo dovere, lo fa con autonomia e indipendenza, mi par di capire che c'è un'indagine molto articolata sulle fughe di notizie sia da parte della Procura di Roma e della Procura di Napoli, i cittadini e le istituzioni devono avere fiducia nei magistrati della Procura di Roma e della Procura di Napoli, io do solidarietà però a Marco Lillo oltre queste dichiarazioni in cui credo perché è un giornalista coraggioso, perbene, bravo e a cui la magistratura deve molto nel paese perché è lui che certe volte fa scattare le inchieste per quello che scrive, quindi è un grande giornalista che ha la mia solidarietà.